Il decreto PNR è stato un provvedimento organico importante, adesso si completerà l'Italia al Senato la settimana prossima, è un provvedimento che affronta sostanzialmente quelli che sono alcuni dei nodi più importanti, che sono innanzitutto quello del principio di responsabilizzazione del sistema degli enti attuatori da una parte, dall'altro una risposta a tante polemiche che abbiamo ascoltato in questo anno e mezzo, quando si parlava del mancato finanziamento degli interventi, perché l'articolo 1 del decreto copre tutti gli interventi che sono stati messi fuori dal PNR. In più molte norme di semplificazione e di accelerazione che sono fondamentali. C'è un dibattito politico legittimo su questo e poi c'è la realtà dei fatti. Noi abbiamo un PNR che ha come scadenza giugno del 2026 e il lavoro del governo, il mio in particolare, è concentrato su questa scadenza.